In previsione del Mondiale, come vede l'Italia di Brandelli? L'Italia la vedo molto bene. Adesso dovrà fare le sue scelte, ma io penso che lui sappia già chi portare. Secondo me farà un ottimo Mondiale. Senti, sull'iniziativa di questa sera, di là del risultato, una cornice di pubblico stupenda, abbiamo visto il pubblico. Questa può essere una risposta al calcio che non ci piace a noi in Italia, cioè alla violenza con gli stadi e tutto il resto? Finché non si faranno gli stadi di proprietà sarà sempre dura. Quando si faranno gli stadi di proprietà le cose cambieranno. Oggi abbiamo visto che un sacco di bambini allo stadio, questo è il messaggio più importante di questa sera. Penso di partecipare ad altre iniziative del genere? Le sto già facendo da diversi anni. Quindi ha intenzione di continuare? Sì, per beneficenza si fa questo e l'altro. Benissimo, grazie. Finale mondiale che vedi? Brasile sicuramente. L'altra magari, magari. Tu hai sempre giocato? Sì. Purtroppo i rigori... Vabbè, pazienza. Sì, sicuro. Grazie.